enjoy signori rando qui con voi e questo facciamo qui su payday 2 signori oggi qua in questo momento sto facendo quest'intro perché questo è il video che registro con pepo che farò appunto con pepo infatti come vedete in alto ha avviato payday 2 dove in parocche parole andremo a fare questa mini sfida come vedete io sono di livello infame a 5 e livello 0 guardate qua manipolatore 0 specialista 0 tecnico 0 spettro 0 fuggitivo 0 la sfida sarà riuscire a fare una banca in apocalisse ma vediamo magari facciamo la banca o qualcos'altro ma ci organizziamo dove praticamente il protagonista sarà lui ovvero la sfida sarà riuscire a portare a termine la banca in apocalisse in stealth dove però dovrà gestire tutto lui perché lui è tipo a livello 90 e passa perché abbiamo giocato un po' insieme ultimamente è salito gli sta venendo voglia di giocare e la sfida sarà appunto quella io senza abilità sarò praticamente un inutile in questa missione quindi spero che vi piaccia questo video nel caso fosse così appunto mettete un bel like e ci becchiamo subito nella missione ciao a tutti ragazzi quest'oggi come potete vedere ci troviamo qui su payday 2 e oggi siamo in compagnia del signor random hd ciao pepo ciao pepo su me va signor random tutto pronto per questo colpo cioè mi sento alquanto inutile però siamo pronti dai 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 spiega un po' perché allora ragazzi allora come vedete random è il livello zero perché è appena infamato esatto ma puoi essere di infamia 5 io ancora devo fare la prima io ancora non ce l'ho le carte ma basta che basta che nerdi un po' e ce la fai vai tranquillo ragazzi io sono livello 93 che ci sta bellissimo oltre 3 93 cioè sembra fatto a forza è vero ho scelto è vero abbiamo scelto il colpo in banca denaro difficoltà apocalisse e random diciamo sono inutile non ha nulla però sarei sicuramente più utile di me ma vorrei solo curiosi sapere a quanto date la riuscita al primo colpo per questa missione siamo nelle mani di pepo raga lei non sapete ma è pro costrettissimo no ma il bello che non ho abilità non posso sbloccare neanche la scheda capito quindi di far tutto te nella pre pianificazione ma è andata è andata ma beh ma guarda che è stelte vai vai tranquillo nessuno ha visto nessuno ha visto niente no non è successo niente vai tranquillo ho una build consigliata da random sì no non mi è favore per lo stelte è fantastico sì c'hai tutto te l'ho fatto anche in video tra l'altro comunque vai vai tranquillo ma non è spettacolare allora ok che cavolo però scavo che fosse qua no madonna bravo allora sei serio ma sono ho sbagliato ma no no ma tranquillo c'è stai migliorando vabbè voi non avete visto niente voi non avete visto niente allora c'è perché ha interrotto a perché sono stupido ma no pepo hai preso la tessera no me la sono dimenticata allora adesso non mettere bravo il direttore vai tranquillo metti la maschera bravo vai nell'ufficio del direttore che magari lì sì infatti quello voglio fare magari ci abbiamo culo ok te l'ho detto se l'ha trovato vai di là di la cosa mi sono fatto dopo le due mazzette dice bravo che proprio che poi alla fine 2.600 euro se fossimo ladri italiani saremo rinchi e così ce ne possiamo andare è vero siamo venuti in banca abbiamo prelevato 2.600 dollari abbiamo fatto il mese e via stai a posto amici stai a posto camera over there look out camera look out camera over there no allucinante c'è una guardia c'è una guardia è arrivata quella l'ammazzo vai ammazzala vai ammazzala ascolta per forza rispondi al cerca persone tantissimo vai risposto l'abilità di rispondere a cerca persone non ce l'ho però ce l'ho amiche almeno quello me lo fa fare porca puttana almeno quello te lo fa fare almeno puoi dire salve sono la guardia tutto bene ok perché quando te non lo sai ma a noi succede che non lo fa perché sparando loro vanno a terra con le abilità vai questa e poi sono sicuro guarda ma sei sicuro sì no 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 sono sicuro troppo la faccia è la parte che lo stealth è fatto che la magnetica salve buongiorno disturbo spero che sia tutto bene ma è tutto molto molto rispondendo rispondendo vai telecamere sono auto questa è un ottima notizia allora vado aprire la porta così le guardie tenderanno anche a uscire da qua allora quante guardie mancano tre tre l'altra è qua mamma mia ammazzala adesso che dentro lì bravo rispondi perfetto io adesso sto che è l'altra mamma mia o avvisami se sta avvenendo che più che stadi in faccia proprio no è lì fuori guarda te l'ho spottata bravissimo mi sta avvenendo tantissimo già allora metti il gemmer li ammazziamo e poi devi metterti dietro a mettere giù tutti quelli lontani se vuoi fare una roba fai allora vado di jam vai e ammazza quella che è lì vicino e io ammazzo l'altra vai vai spam spara devi far casino se noi ti cambiamo arm fai casino fai casino che sono quelli no questi schiacci no ok bravo pepo nice adesso vai lontano a terra a terra grande io li leggo ok ok aspetta un attimo ok se vuoi tempo puoi mettere ancora il gemmer se vuoi tempo si rispondiamo rispondiamo pepo devi rispondere rispondo io no bravo no 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 ce l'ho fatto io vado a prendere la culo vai aspetta devo sparare perché non mi fa rispondere ok non mi fa rispondere a questo no 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 ti prego ho messo il gemmer ho messo il gemmer per quel ah ok ora che sto rispondendo che amma mia l'ansia grande pepo grande pepo devi legare questo la banca è nostra o lo leghi o lo uccidi perché non ho fascette non ho un cazzo e la banca è nostra metto il trapano va bene vai a mettere il trapano grande ragazzi abbiamo preso la banca quattro minuti e cinquanta senza con una persona senza abilità nice mettilo te il trapano che hai le abilità mettilo te che hai le abilità al massimo la potete aggredare ok f per mettere il trapano ok ok mi raccomando lega con le ultime due fascette quelli più bastardi perché quelli che arrivano quelli lontano leggo si bravo no raga questa è proezza dai cazzo non abbiamo l'abilità non ce l'abbiamo fatta grande allora quanto ci vuole certo 230 secondi il tempo incredibile è silenzio ok mi fotte i soldi qua si può levare il silenziatore tessera no ebbene schiacci la guardia un po madonna che figata ok ok bam ok io intanto continuo a dire di stay down parte che questi qua vicino sentono la solita fa niente fa niente se senti quelli vicini qua se sentono la sega non fanno più un cazzo quelli lontani problema allora perfetto vai allora questi qua legati alla ragazzi dobbiamo soltanto aspettare che si apre il cavo guarda qua io tiro un calciotto bam e non è andato vabbò c'ha l'abilità che con l'attacco milì ragazzi riesce a farlo a partire il 50 per cento delle volte quindi questa volta non è questa volta non è andato ovviamente nobody talk and everybody stay down si nell'attesa comunque vi volevo chiedere una cosa ma se volete qualche magari episodio particolare insieme a random lasciate un commento qua sotto magari volete vedere qualche mappa particolare non lo so se avete delle richieste anche delle sfide esatto con delle build particolari c'è cose strane challenge cose varie qui sotto nei commenti ma proprio le facciamo facciamo le sfide su quei dei due chiorando mancano ancora due ore madonna e pensa che c'hai i trapani che sono maxati quindi ci mette 250 secondi quindi sono sono 4 minuti e 10 secondi d'attesa vediamo pepo di nuovo si è lui dal cazzotto e lei va ma ma scusami ma se li ammazziamo tutti questi di se vuoi però spendi 6.000 dollari a civile però di pulizia che spedizione mica amazon no perché adesso dovevo comprare delle robe su amazon pepo e tu sai no e ho guardato le spese di spedizione è quello porca tutta detto la sega però mamma mia occupa tre quarti e mezzo di di cosa non schiaccia b schiaccia b no ma veramente ma è troppo figa sta cosa pepo cioè cs poi le schine hanno messo ma vero hanno messo le schine oh prendi i soldi vai vai tranquillo il cavo ce l'hai le munizioni si ce le hai mettitele giù così almeno puoi tranquillamente puoi tranquillamente recuperarla io intanto porto perfetto ho la prima cassetta piena di soldi madonna mia raga mi rivolgo a tutti quelli che guarderanno il video guarda quando schiaccio g guardate quanto tempo quanto lag guardate ora cioè avete visto quanto tempo cioè poi lo vedrai pepo un lag cioè no ieri parlavamo appunto della logica c'è tu spari con un'arma se non hai l'abilità non si spaventano se però ce l'hai si spaventano sempre la stessa arma ovviamente normalissimo è normale questa è la lorre di peidei e beh certo no questo me lo dovete con l'aga perché il furgone quello blu e non è quello rosso a due lamparine a due niente a due lamparine ragazzi allora ragazzi ragazzi taglio cattivi cattivo tra 25 minuti infatti guardate il timer in alto 15 minuti e 35 15 minuti no no stanno chiamando ok andiamo ce ne andiamo ce ne andiamo andiamo ce ne veloce veloce ma veloce vai veloce via via ragazzi perché ho finito raga che culo madonna no 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 niente invece perché mi sono dimenticato che finendo le le cose i civili chiamano esatto perché non facciamo più casino comunque è stato un successo 4 milioni e mezzo quasi di estero e un milione vediamo quanto mi busti pepo sono curioso perché sono a livello 0 mo ti dico ma hai visto faccio 34 no vabbè non ci credo ma cioè ma ma quanto mi busti e adesso siamo pronti per un prossimo stelta è certo è detto ciò ragazzi io spero tantissimo il video di oggi vi sia piaciuto ringrazio random per la compagnia incredibile grazie a te soprattutto per il boosting raga ragazzi fatemi sapere qui sotto nei commenti il tutto come vi ho già detto prima magari qualche sfida qualche cosa insieme a random vi ricordo di passare anche dal suo canale visto che pure lui come porta payday è fenomenale potete vedere salti incredibili grazie e nulla ragazzi noi ci vedremo ad un prossimo video vi voglio bene ciao 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 stappa stappa fai stappare è facile stappa e io sono imbranato ma provo ok ciao 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 ciao